Nei confronti della non violenza si debba innanzitutto prendere atto del fatto che chiedere, esigere che ci sia un'educazione alla non violenza, quindi un tendere, un progettare alla non violenza, non voglio dire negare il fatto che la violenza esiste, che esiste la conflittualità e che esiste in ognuno di noi una tendenza all'aggressività e alla risoluzione, come dire, pugnace dei conflitti e delle tensioni. Quindi credo che possa soltanto essere un percorso in cui innanzitutto non si nega la violenza, si cerca il più possibile di limitarne non soltanto l'uso, ma proprio la cittadinanza come parola, come vocabolo. Simone de Beauvoir diceva donne non si nasce, donne si diventa. Io credo che nascendo donne e diventando donne si possa essere un pochino più facilitate. Credo che esista nel femminile una capacità di cura e di attenzione che ci rende, ma non tutte, non sempre, non prioristicamente, però insomma più inclini a risolvere i conflitti non con la violenza. Adottare la non violenza come metodologia d'azione è sicuramente un segno di forza, di costanza, di pazienza infinite, di infinita capacità e volontà di risolvere la complessità delle cose. Il problema è che la violenza, tutte le soluzioni violente, sono in realtà delle scorciatoie. Non riesco a venirne a capo, non riesco a districarmi, non riesco a sciogliere i nodi e quindi appunto li recido con un gesto violento. Mi sembra, come dire, molto più progredito, evoluto, civile e in sintonia, oltretutto con tutte le conquiste innegabili che questo mondo, almeno parte di esso, ha fatto, sostenere un atteggiamento di intelligente non violenza.